Dopo il pari beffa subito in casa del Monticelli, il Chieti dimostra di essere in grande ripresa e lo fa stendendo con pieno merito il Fano, terza forza del campionato. Prestazione di grande solidità per la squadra di Umberto Marino, che ha lavorato ai fianchi marchigiani per poi piazzare l'1-2 risolutivo nella ripresa con Dos Santos, che si procura rigore ed espulsione del difensore Torta per poi trasformare la massima punizione, e Nicola Fiore che chiude anzitempo i conti. Vittoria che contribuisce a riportare un po' di sereno, al termine di una settimana agitata dalla querelle tra Chieti Calcio e Comune per la vicenda del bando per la gestione dell'Angelini. A distendere gli animi ha contribuito anche l'idea del patrone neroverde Pomponi, che ieri ha inaugurato il nuovo montacarichi che permette a persone affette da disabilità di poter accedere alla tribuna dello stadio. Fa festa anche l'Avezzano, che dopo quattro giornate ritrova la vittoria e lo fa a spese della vicecapolista materica che paga l'assenza di esposito e i pochi stimoli di una rincorsa alla San Benedettese compromessa nella sconfitta dello sconto diretto. Ma questo non sminuisce affatto la bella prova dell'Avezzano, che ha trovato un nuovo asso. Lorenzo Di Curzio, autore di una sontuosa tripletta. Cresciuto nella Fiorentina, l'attaccante classe 96 è ripartito dalla Marsica per dare slancio alla futura carriera, un giocatore sul quale il tecnico Lucarelli può contare per i prossimi delicati impegni. Delle prossime sei gare, cinque sono scontri diretti a partire da domenica a Pesaro. Passo falso per la Miternina, che cede nella ripresa sul campo dell'Arecanatese. Nell'anticipo il San Nicolò ha inflitto una cinquina che ha fatto precipitare le cose nel Giulianova. Gelsi e Pisano si sono dimessi, il presidente Serraiocco valuta il da farsi, ma ora mette in discussione anche la sua permanenza in seno alla società dopo le ultime forti contestazioni. Diciamo che fare calcio diventa difficile, fare proprio il calcio. Se non deve rimanere nessuno, dal direttore sportivo, dal direttore generale, non deve rimanere nessuno perché la piazza pensa di poter prendere decisioni nella società ogni qualvolta c'è qualche difficoltà, la difficoltà ci sono e tante, siamo ultimi. Ma se non facciamo qualcosa tutti insieme penso che in Giulianova non è che quest'anno rischia di andare in eccellenza o già è in eccellenza, rischia che il calcio non esiste più.